Il volume offre una panoramica delle guerre in corso attraverso schede, mappe geografiche e dati aggiornati al 2011. I conflitti analizzati sono 35. Ogni scheda affronta l'evoluzione dei singoli conflitti e le ricadute sulla popolazione civile, quindi profughi e rifugiati. Gli approfondimenti toccano diversi temi di attualità internazionale, scarsità di risorse, finanziamenti alle armi e ruolo dell'informazione. Un'ampia sezione è dedicata alle rivolte in Medio Oriente. Il direttore del progetto, Raffaele Crocco, ci ha spiegato le ragioni di questo lavoro. Quello essenziale è che mancava, mancava una raccolta che facesse il punto della situazione delle guerre nel pianeta a un certo momento, ogni anno, quindi aggiornandola. Non c'era una visione di insieme. L'altra è che l'Atlante è un modo efficace per camminare dentro le guerre. Noi pensiamo che anche la geografia sia fondamentale per spiegare le motivazioni della guerra. Fondamentalmente tutti argomenti che spiegano le ragioni della guerra entrando nelle ragioni che per me sono quelle principali, cioè economiche, che spiegano fondamentalmente che là dove c'è ingiustizia, cattiva distribuzione della ricchezza, mancanza di rispetto di diritti civili e umani, lì ci sono le ragioni, maturano le condizioni perché la guerra diventi lo strumento di intervento. L'iniziativa sostiene le attività dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati. Per ogni coppia venduta, un euro sarà destinato alle operazioni d'emergenza nel corno d'Africa, soprattutto in Somalia. Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, terza edizione. Realizzato da 46esimo Parallelo, edito da Terra Nuova. 236 pagine, 20 euro. Grazie a tutti.